Un saluto e ben ritrovati con le tendenze a medio e lungo termine di Trebimeteo. Diamo uno sguardo a come inizierà la seconda decade del mese di agosto, in particolare il periodo dal 9 all'11 agosto e notiamo come questo promontorio di alta pressione dal Nord Africa tenderà a innalzarsi verso l'Europa occidentale favorendo quindi una maggiore stabilità con clima decisamente più caldo rispetto all'ultimo periodo e in condizioni di caldo intenso che interesseranno gran parte del Mediterraneo occidentale e ancora una volta le regioni del sud Italia e le isole maggiori. Il resto del nostro paese sarà invece coinvolto da residue correnti atlantiche che interesseranno soprattutto al nord-est ma anche al medio versante adriatico con qualche equazione o temporale oltre a un calo delle temperature e a un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali. Di contro però al nord-ovest proprio per effetto di questa rimonta anticiclonica sull'Europa occidentale il tempo andrà stabilizzandosi e le temperature torneranno a salire su valori più consoni alla stagione estiva ma chiaramente questa resta una linea di tendenza vi consiglio di continuare ad aggiornarvi scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.